Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla FIPILI ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla A12 per lavori fino al 21 marzo è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione sud. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del Bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del Cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!